Il ritorno di Shrek, 21 anni dopo, non al cinema bensì a teatro, sbarca in Italia il musical di Theatre for Young Audiences e la prima tappa è proprio a Bari. Il debutto in anteprima nazionale è previsto il 27 ottobre per poi rimanere in scena fino al 30 dello stesso mese al teatro anche cinema. Accogliamo e affianchiamo in coproduzione i talenti pugliesi, troppo spesso bisogna andare fuori per trovare dei partner e delle opportunità. Anche cinema non nasce solo per distribuire progetti di altri ma per affiancare e produrre, come già accaduto con la distribuzione e la produzione di cortometraggi poi distribuiti nel mercato editoriale, con la pubblicazione di un romanzo e torneremo a fare anche quello. In questo caso siamo stati cercati, abbiamo accolto questa compagnia pugliese che cercava un partner per poter fare le cose in modo professionale. Diretto da Angelo Lucarella e da Anna Lori Fullone, il musical vanta le coreografie di De Vira Bocconi e la presenza di Michele Savoia nei panni del protagonista di questa favola contemporanea. Importanti le scenografie fisiche e digitali in grado di ricreare perfettamente le ambientazioni del mondo di Shrek. Shrek è stata una bella sfida e un bel regalo, devo dire, perché innanzitutto è molto divertente, è un testo, è un musical molto molto divertente, colorato, poi fa parte della nostra infanzia, quindi ritornare un po' indietro con gli anni non fa mai male. Per me è bellissimo perché si racconta una tematica che a me sta molto a cuore, cioè quella della diversità o come qualcuno diceva qualche mese fa, della unicità.